Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono EJ e oggi siamo tornati su... Non mi ricordo neanche il nome, è in troppi giro. Allora, eravamo rimasti in un punto dove io avevo perso lo stalk che mi faceva luce, diciamo. L'avevo perso. E vorrei vedere se non è un bug che ci può andare solo lui. E adesso muore, adesso muore. Baffagolo. Eravamo rimasti in questo punto. E non avevo capito se era un bug che ci poteva andare solo lui o che pure l'avevo perso di vista. Perché non mi sembra che aveva molto senso. Comunque, dobbiamo guardare molto bene se non arriva nessuno. Non è arrivato nessuno. Allora, adesso. E vedi che ci può andare solo lui? Quindi, io devo trovare la strada. Ah! Sì, ma adesso non vedo più. Non vedo un cavolo. È lui che mi fa luce. Ciao. 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 Di qua ci sono le cioni. Si va a dove? Si va a dove? Mamma mia che spavento. Ok. E basta! Ho perso la mia toccia. Sì, Greta. No! 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 Voi non venite! Tre! Ma chi vorrebbe l'aiuto dello stalker? Quindi devo trovare un'altra via? Eh! Qua! Sì! Ci ho fatta! Ho trovato la toccia! Ah! Ho trovato la toccia! E adesso posso notare benissimo la strada. Ovviamente qua ci ha pesci, cosa devo fare. Dove vai? Dove vai? Dove pensi di andare? Sì! Oh! E che cavolo! Ci voleva lo stalker che mi faceva luce ma non ce ne ho più bisogno. Quindi puoi anche spegnere la torcia se vuoi, ma se vuoi rimanere così, va bene. Allora mi devi aiutare con quel punto, ok? Vuoi che volete uccidere il mio amico? Non ve lo permetterò. Non ve lo permetterò. Ma non c'è nessuno. Non mi sta arrivando nessuno. Puoi andare. Eh! Ti ho sentito, eh! Ok, possiamo andare avanti. Sì! Grandi! Siamo dei grandi! Siamo dei grandi! Qui cosa c'è? No! E sono il maestro da solo. Beh, almeno stiamo andando avanti. Almeno stiamo andando avanti e questo ci piace. Ti ho preso in giro. Pensavo che non ti avessi visto. Eh! Grazie che mi stendete il tappeto rosso. Bravi! Oh mio Dio! Cos'è sta roba? Un organo? No! Qua non si va? Possiamo chiamare il treno? Possiamo andare sul treno! Ah! Lo guido proprio io? Che bello! Installation 10. Ce l'abbia fatta! Possiamo andare! Andiamo? Con la scritta rossa va bene? Sì! Stia partendo! Mamma mia! Così è improvviso! Stia partendo! Sì! Andiamo veloci! Ragazzi visto che questa è una mod di Half-Life vedo dei giorni visto che questa è una mod di Half-Life su questo treno potrebbe succedere di tutto. Aspettatevi qualsiasi cosa! Secondo me eh! Poi magari va tutto bene! Un corridoio così lungo non è che mi piaccia tanto! Ok non è successo niente! Siamo arrivati ad espinazione? Vedo delle lucette rosse e non mi piace! Mi trovo proprio bene in questo treno! Anche delle lucette blu ci sono! Che sta succedendo? Una stalker! Quello è un mio amico! Ma ragazzi è tutta questa fatica per colpa dei cittadini eh! Oh finalmente un po' di luce! Si voleva! Aia! Sta accelerando! Ce l'abbiamo! Oh! E' andato tutto bene! Mi sembra un po' troppo strano! No! E' andato tutto bene! C'è uno stalker che è morto! Solo! Ha chicmente sbloccato! Solo! E' andato tutto bene! Tutto per il meglio! Grazie treno eh! No! Risvegliati! 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 Libera! Libera! No niente! Qua è bloccato qualcosa! Eeeh! Credo di aver capito! What the case? No! Non devo andare! Dov'è? C'è un bottegauto che mi sta attaccando! Ah! Eccolo! C'era più eh! Che ho visto! ma non muore è duro è morto è morto bene se non posso andare allora cosa devo fare devo riprendere il treno? no aspetta allee un po' ci scommettevo anche qua ho lasciato ok bene ragazzi sono un pro ciao ah mi sembra un po' troppo cosa volevi fare mi sembra un po' troppo strano che nevicasse dentro pensavo fosse un ascensore quindi che se ne è andato ma che nevica dentro? dove siamo? è un posto stranissimo si è aperto qui cosa ho fatto? oh wow 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 questa è la soluzione mi stai succhiando perchè urlo anche se c'è il caricamento non lo so nel caricamento dove finiamo? dove siamo? allora mi dico non è tanto scefice che ho fatto bene poi non lo capito ah ok ok sì che figata no vabbè questa è una figata questa è una figata dai dai che ce la possiamo fare? no quando avevo preso la rincorsa ci sono riuscito ad arrivare ma non è più potente come prima come mai? credo che la potenza sia a random è vero che adesso è un po' più potente ah no perchè ogni tanto ti attirava esce il basso credo eh poi no ce l'avevo fatta ah ok che l'avevo capito mi farò un po' male ma forse è questa la soluzione no? no e però vado più in alto ui dai ma luce arriva ma mi stai prendendo in giro? sì no e vabbè mi sciccido ecco mamma mia quanto ti odio ma quanto ti odio da uno a migliardi dio che avevo per fare? qua mi stai prendendo in giro mi stai prendendo in giro di farci qualcosa che non va credo guarda 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 E dai Ma ora mi tieni in alto per più tempo Quindi ora ho una possibilità E dai 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 Tecnicamente dovrei usare questo Ma non è potente Basta 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 Non ce la faccio più Non ce la faccio ragazzi E' inutile Anche se proprio con la tattica di prima E' inutile E' inutile E' inutile E' inutile che stavo per fare Iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!